si sono visto si sono visto a me si 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 senza dolore asciugato non ci riusci non ci riusci non ci riusci non ci riusci e tu hai solo una pecca che non è l'esamezza è l'esamezza è l'esamezza e quindi non c'è quella possibilità che ti permette di riuscire dai vuoi che lezioni rispetto agli altri tutto lì più lezioni fai e chiusai dai leggeri per oggi si i quadri e quindi ho detto ho detto ho detto ho detto perfetto 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 se tu ti 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 i No, 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 no. No, 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 no.